Sabato 6 ottobre 2012, davanti alle telecamere di Rai Sport, il Seregno affronta la capoclassifica del Girone B, la società calcistica caronnese, reduce da 6 successi in altre tante sfide di campionato. Un precedente in stagione in Coppa Italia con la formazione di Corrado Cota che si è imposta per 1-0 sugli azzurri, ma ora è un'altra partita molto difficile per i padroni di casa che devono cercare di fermare una squadra che davvero è in splendida salute. Il Seregno ancora con parecchi indisponibili con il solo recuperato Jacopo Ferre che va in panchina, scende in campo con Maggioni, Bonanno Moreno, Giosuele, Viganò Gritti, Pellegata, Selvatico, Gian Gaspero, Cardigno e Tedeschi 4-4-2 per gli azzurri. 4-5-1 per la Caronnese con Ziglioli, Legrenzi Termine, Marietti, Bruni Lombardi, Giudici Greco Moreo, Andrea Ferre e Luca Sandrin. Con gli highlights andiamo a vedere questo incontro arbitrato dal signor Fiorini di Frosinone al secondo minuto, subito Seregno che prova ad andare in rete con la conclusione di Cardigno, murata da Marietti. Seregno che parte discretamente bene anche se i primi 20 minuti sono di studio al diciottesimo sull'uscita un po' avventurosa ma efficace di Maggioni, continua l'azione della Caronnese con Giudici che controlla dal limite e con il destro manda alto sopra la traversa. Dopo il ventesimo cresce sicuramente la formazione in casacca bianca, al ventiduesimo pericolosissima con il traversone a centro area di Lombardi che non viene raccolto da Giudici sul primo palo. E al trentunesimo ecco dove c'è la Caronnese nei calci piazzati, batte Greco, blocco su Bruni che tutto solo sul secondo palo ha solo il compito di spingere in rete di testa. Il gol che regala il vantaggio alla Caronnese appena dopo la mezz'ora. Seregno 0, Caronnese 1, un Seregno che subisce il contracolpo che nel primo tempo non riuscirà più a creare nulla di pericoloso. Anzi è la Caronnese ancora andare vicina al raddoppio con questo tiro cross di termine che non trova però nessun compagno sul secondo palo. Ancora prima del riposo ci prova il Seregno con Fabio Cardinio al quarantatresimo minuto disorienta con una finta Lombardi il suo sinistro di collo esterno ad uscire con pallone ad un metro dal palo di Ziglioli. Andiamo nella ripresa dove dopo solo 35 secondi il match ha la svolta probabilmente decisiva contrasto in area di rigore tra Buonanno e Giudici con il giocatore numero 7 che dopo una leggerissima spinta scivola sul pallone. Il direttore di gara invece concede il penalty, un penalty che le telecamere di Rai Sport smentiranno dal dischetto però va Andrea Ferré, intuisce Maggioni. Ma il pallone va in rete dopo un solo minuto nel corso della ripresa Seregno 0, Caronnese 2 ma la reazione degli azzurri è dietro l'angolo. Infatti il doppio vantaggio della capolista non scompone minimamente l'animo dei padroni di casa che al nonno minuto imbastiscono una bellissima azione. Ferré largo a sinistra per Gian Gaspero, per Cardinio scusate, che entra in area di rigore. Il suo attraversore nel centro dove Jacopo Ferré prende benissimo il tempo ai difensori della Caronnese realizzando il gol del momentaneo 2-1 Seregno che prova a riaccendere la sfida e che andrà veramente vicinissimo al pareggio al tredicesimo quando sul lancio di Selvatico la zampata un po' sporca di Francesco Gian Gaspero termina davvero a pochissimo dal palo coperto da uno ziglioli un po' distratto in uscita. Al trentunesimo però la doccia è gelata, ancora calcio d'angolo, ancora battuto da Greco e sul secondo palo nessuno va a prendere in consegna Federico Corno che realizza così il primo gol in campionato, il suo vero rientro con la casacca della Caronnese. Il 3-1 spegne ogni speranza degli azzurri che ci provano però nel finale ancora con Selvatico dalla bandierina il colpo di testa di Tandy che sfila davvero lungo tutta la riga di porta e non trova il bersaglio grosso e poi al quarantasettesimo Viganò, quasi utilizzato da punta per Cardinio, il suo sinistro, viene murato probabilmente con un braccio da Bruni in area di rigore, non secondo Fiorini che non decreta il penalty, finisce così con un 3-1 davvero troppo bugiardo in favore della Caronnese sul Seregno, Caronnese che dunque centra il 7-bello, sale in classifica a 21 punti il Seregno invece incassa la seconda sconfitta su 3 al Ferruccio dopo quelle contro Montichiari e Prosesto ma questa volta una sconfitta che ha davvero segnali molto positivi in vista della trasferta sul campo del Mezzocorona